Il Pescara esce dalla Coppa Italia con un passivo pesante. Il 4-1 di Marassi, rifilato dalla Sampdoria però, è frutto di una partenza horror dei Biancazzurri, che dopo il 3-0 si sono ridestati e hanno giocato l'ultima ora più che dignitosa, creando occasioni e impegnando severamente l'estremo di casa Pugioni. Zeman lancia Campagnaro, Ganze e Benali e non rinuncia a Mazzotta e Brugman. Marco Giampaolo mette dentro gli ex Caprari e Verre, panchina per Torreira. Che la Sampdoria sia forte, di altra categoria si sa, ma nei primi tre minuti il bilancio è gol di Kovnacki sugli sviluppi di una pallina attiva e occasione grossolana per Caprari. In pratica il Pescara non c'è e la Sampdoria affonda in scioltezza tra le belle statuine biancazzurre al nono Ramirez in sacca il cross di Kovnacki. Caprari non risparmia gli ex compagni e poco dopo la mezz'ora l'attaccante romano conclude con forza e precisione l'azione che porta al 3-0. La Sampdoria a questo punto rallenta, il Pescara si ridesta per evitare una notte umiliante. I tentativi di rientrare in gara del Delfino sbattono contro un Pugioni in grande serata che dice no ai tentativi di Carraro, Zampano e soprattutto Ganze. Discreta la prima da titolare dell'ex Lariano che in area dimostra di sapersi muovere con destrezza e abilità più di quanto, dicono i pochi scampoli regalatili da Zeman. Il Pescara migliora la fluidità del Pescara che attacca con più decisione la profondità e al settimo della ripresa accorcia le distanze con l'affondo di Ben Ali messo in movimento da un perfetto rinvio di Pigliacelli. Samp rinunciataria e Pescara vicino ancora al gol con la rovesciata di Ganze e con il destro di Elisalde entrato al 17esimo al posto di Mazzotta. I tentativi del Pescara sono sedati dalla doppietta di Kovnacki con palla persa in uscita da Elisalde e Pigliacelli poco pronto nella circostanza. Il tempo di annotare un altro duello vinto da Pugioni su Gans prima del tripice fischio che manda la Sampdoria di Giampaolo a sfidare la Fiorentina agli ottavi. Il Pescara chiude con un bilancio molto negativo la Cinque Giorni Ligure e sabato sarà di nuovo campionato. La panchina di Zeman traballa e con la Ternana il Boemo non potrà sleccare.